Sono giunte alla nostra redazione numerose segnalazioni da parte di assidui frequentatori della pineta di Ponte Metauro delle evidenti tracce del passaggio nella parte bassa della pineta di un cercatore munito di metal detector. Ne sono testimonianza le ravvicinate numerose buchette di pochi centimetri di profondità sparse su un'ampia superficie. Nulla di irreparabile o che un cane affamato eventualmente non possa fare, ma sicuramente non un bel esempio di civica educazione nei riguardi di un bene della comunità fanese. La mania della caccia ai metalli preziosi con il metal detector da alcuni anni sta imperversando anche in Italia. Sull'onda emozionale anche di serie televisive made in usa come Cacciatori d'oro, trasmesse sul National Geographic Channel e di una più massiccia diffusione di questi strumenti di ricerca, in molti si sono improvvisati detector sulle spiagge e arenili di mezza Italia, alla ricerca di monete o di altri oggetti persi nelle assolate giornate estive dai bagnanti. Ma c'è anche chi si spinge oltre la spiaggia, come nel caso della pineta fanese, magari alla ricerca di ben altri tesori nascosti nel sottosuolo o, peggio ancora, di reperti bellici o storici. Allora è bene sapere che esistono delle regole ben precise e come precisa l'avvocato, nonché storico Fabio Garaventa, di un'associazione di nuovi autorizzata, non è possibile cercare oggetti col metal detector senza autorizzazione, spiega Garaventa e spesso per averle occorre molto molto tempo. Quindi niente improvvisazioni al rischio di incorrere in qualche guaio, come è accaduto uno sprovveduto proprio nel Lenovese, che dopo aver effettuato delle ricerche sul campo della famosa battaglia di nuovi del 1700, ha messo in vendita su una bancarella pensate reperti militari e monete antiche, subito pizzicato e subito denunciato. La febbre dell'oro si sfoga maggiormente però in rete, dove sono moltissimi siti e le pagine Facebook, dove è possibile scaricare anche il codice deontologico e le norme di legge alle quali bisogna sottostare. E' bene sapere quindi che in Italia la ricerca archeologica è vietata e che i ritrovamenti non archeologici vanno eventualmente portati all'ufficio oggetti smarriti e che beni o oggetti oltre i 50 anni di vita non possono essere né detenuti né commercializzati, tanto meno i reperti militari, che vanno denunciati alla sovrintendenza non oltre le 24 ore.